Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Lui vige l'eguaglianza, non conta un prezzo a nessuno. Più mi ti chiami, facevi merda. Palle! L'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome? Beh, c'è un'altra cosa che non ti piacerà il soldato Biancaneve. Non si serve il piatto negro nazionale, né il pollo fritto, né il lippocomero della mia mensa. La mia mensa è un'altra cosa che non ti piacerebbe. La mia mensa è un'altra cosa che non ti piacerebbe.